Partiamo. Allora, benvenute e benvenuti in questo nuovo ciclo, questo nuovo dialogo del ciclo di incontri, dialoghi promosso da Cosmi in collaborazione con Cicatrici e Baci. Siamo Francesca, Barbara e Andrea, l'ospite di oggi è Francesca Marchegiano. La tematica che affronteremo oggi, su cui proveremo a costruire questo dialogo è la morte, questa esperienza, questo processo esistenziale che interessa tutte le culture umane, benché la sua rappresentazione, la sua visualizzazione, le pratiche per comprendere e accogliere questo processo sia diverso in tantissime culture e di conseguenza anche la sua narrazione è diversa. L'ospite appunto di oggi è Francesca, darei lo spazio a lei di presentarsi e poi avviamo questo flusso, questo dialogo che può nascere. Grazie, grazie mille per l'invito. Allora, io lavoro con la narrazione, un po' come appunto anticipavi parlando anche di morte in varie culture, quindi il mio lavoro riguarda il raccontare storie e ascoltare storie, scrivere storie, aiutare altri a scriverle e anche appunto raccogliere storie, abbiamo anticipato il tema della morte anche di chi si trova nel fine vita, in quello che si chiama il progetto di testamento etico. Diciamo che la morte non è sempre stata, anzi mai stata un mio focus professionale e narrativo, nonostante abbia scritto anche spettacoli teatrali su questo tema, ma lo è diventato negli ultimi anni proprio approfondendo lo studio sulla narrazione e rendendomi conto di quanto poco ci sia rispetto al favorire soprattutto un dialogo sereno sul tema, perché c'è in realtà tantissimo dal punto di vista dei mass media, quindi la morte è sbandierata quotidianamente, nel suo aspetto più splatter, proprio io la chiamo la pornografia del dolore della morte, ma almeno per quanto valeva la mia esperienza mi sono accorta di quanto fossi io in primis poco abituata a confrontarmi con persone intorno a me su questo argomento, a meno che non ci fosse un lutto in atto, quindi fosse successo un evento, però al di là di quello, quindi normalmente, mi mancavano dei pezzi e per questa ragione sentendo una mia incapacità e un mio vuoto narrativo, ho seguito delle formazioni sul tema e adesso cerco di portare questo argomento per favorire appunto narrazioni intorno al tema morte, che ovviamente poi quando si aprono riguardano il tema vita, perché chiaramente non essendo dissociati i due elementi si inizia parlando di morte e in realtà si parla tantissimo e si celebra tantissimo la vita, quindi sono qui oggi per dialogare con voi su questo tema. Grazie per questa presentazione. E quando si parla di morte si può parlare di tantissimi aspetti legati alla morte, corpo, emozioni, il modo che hanno le persone di rappresentarla, a raccontarla, in che modo dalla nostra prospettiva creativa possiamo dare un'altra visione della morte, che non sia quella mainstream, si può dire, la nostra, europea, che vede un improvviso distacco dalla vita e non la interpreta come un processo che fa parte della vita e anche creativo. è una domanda densa, stavo un attimo integrando, ma cosa mi viene così spontaneamente di dire? è che di fatto educarsi piano piano alla morte, a integrare e vedere e non fuggire, le piccole morti può essere una via, diciamo. Poi, vabbè, le vie sono tante e ognuno ha la propria narrazione, come Francesca Marchegiano ce l'ha raccontato, è nato da un suo bisogno, da un suo modo di affrontare, di vedere, osservare se stessi, ecco, osservando se stessi. e quindi, per me personalmente, è stato un po' particolare questo, come sono, come mi sono collegata a questo tema. Magari anch'io do una piccola esperienza, giusto per capire come a un certo punto mi sono resa conto della morte, che è proprio un'esperienza che ho avuto da bambina, mentre era estate e andavo a nuotare, come tutti i bambini, poi eravamo ancora molto liberi, non è che eravamo molto controllati, già, toh, salvagente e via, no, sai cosa devi fare. Era piccola, guardo lontano e vedo i ragazzi che giocano a saltar fuori e dentro il salvagente, ho detto, oh, che gioco fantastico, no, non sapevo nuotare, però ho detto, wow, questo gioco mi piace un casino, lo devo fare, e allora, tutta contenta, con una bambina gioiosissima, mi butto fuori dal salvagente, pensando, poi dopo rientro, anche io sbucco fuori con la testa, come gli altri, guarda come si divertono. E invece mi sto a sprofondare, no, ma ero così catturata da questa esperienza, che dicevo, wow, che belle queste bolle, guardavo i riflessi, le bollicine, tutto quello che cambiava, intanto andavo giù e poi a un certo punto ho avuto anche un momento, ho detto, ma respiro, come se fosse arrivato dopo un po', no, ma mi hanno detto che non si respira sott'acqua, no? E lì, boom, dopo ho avuto, cioè una mano mi ha preso e ho proprio avuto questa esperienza, dopo di vedere che ti erano preoccupati, dopo ho capito che questo era un momento rischioso in cui avrei potuto perdere la vita e andare in quella cosa misteriosa che era la morte. No, per dire, e quindi è come se averlo vissuto attraverso questa esperienza mi ha sempre lasciato una sorta di gioia di sottofondo. Non so come spiegarlo meglio, ma come se in qualche modo c'è una serenità di fondo. Ecco, tutto lì. Dopo non voglio andare a recuperare top mentalmente, però per me questo è stato molto, molto interessante. E l'ho potuta sfruttare varie volte quando mi sono confrontata nel dialogo con qualcuno che invece magari aveva una visione completamente oscura e pesante. E questo apre un po' il dialogo. Voilà. C'è stata una sorta di autoeducazione. la tua esperienza, in un certo senso, ti ha permesso un'autoeducazione. E in questa scia, volevo ricollegarmi a Francesca e al suo progetto End Education, è molto interessante, un po' per la scelta del termine. Non è morte, ma è fine. E poi capire in che modo si sviluppa questo progetto, in questo senso, l'educazione, alla fine. Cosa a cui effettivamente non siamo molto educati. Ci fa tanta paura alla fine di qualsiasi cosa. Esatto. Allora, questo progetto nasce in realtà camminando all'indietro dalla morte. Quindi, dopo aver visto che non conoscevo bene questo tema, li sono andati incontro. Quindi studiando, facendo master sul tema, eccetera. Approfondendo, cominciando a condurre il caffè. Però poi mi sono resa conto che comunque, per fortuna, ci sono delle situazioni, dei luoghi, dove di questo argomento se ne può parlare, al di là appunto di come dicevamo, viene spiattellato sui mass media. Ma la cosa che ho notato è che prima di questo tema, quindi prima della morte, ci sono tantissime morti in vita che non essendo abituati a parlare della morte, quella fisica, insomma quella generale, noi non siamo altrettanto abituati a onorare, attraversare, guardare con la giusta prospettiva. E intendo dire tutte le morti che ciascuno di noi ha attraversato anche fino a qui. Quindi la morte nel senso di una relazione, la fine di un amore, la fine di un percorso professionale, è un sogno che si infrange, è un progetto che viene abortito perché doveva partire e poi non parte. Già in questa società, pure se qualcuno muore, bisogna subito sostituirlo con qualcun altro, non so, pensiamo al lavoro, ma anche se ti muore il cane, tendenzialmente la prima domanda che ti fanno è adesso ne prendi un altro. Quindi c'è già questa cosa. Poi ci sono una marea di morti che non possono essere onorate. Parlo proprio per esempio degli aborti. Se io ho un aborto, devo tornare al lavoro dopo due giorni, non mi viene concesso un tempo del lutto. Quindi già non siamo capaci di questo. Ma prima di quello, tutte le altre morti, se non le riusciamo a guardare dalla giusta prospettiva, intanto non le riusciamo proprio a considerare, a onorare. Io definisco così. Onorare per me significa proprio rendere onore, ma anche raccogliere il dono che quella morte lascia, perché ogni morte lascia qualcosa. E però a maggior ragione arriviamo poi alla morte, quella con la M maiuscola, totalmente impreparate e impreparati. Quindi io vedo un'educazione alla fine come un percorso, io lo chiamo fare stretching verso la morte. E come dire, la morte è il salto che devi fare dal trapezio, quello sei, il salto mortale con tutte le tue evoluzioni. Se non ti abitui, se non cominci a fare le capriole sul tappeto, come fai ad arrivare lì quel giorno, che sia la tua, che sia quella di chi ami, e riuscire a farlo quel salto, diventa devastante, non riesci. Allora io ho considerato, ho pensato, anzi in realtà pensavo che ci fosse già questa cosa. Quando ho pensato all'educazione alla fine ho detto attenzione, mi si apre il mondo, devo comprare 8000 libri, sapete quando già uno gli viene un'idea e dice ok, ho digitato su Google già pronta col dito sul carrello per ordinare la qualsiasi iscrivimi a tutti i master del mondo. E lo stupore è stato che non c'era assolutamente niente, non esiste end education, nessuno ne ha mai scritto, parlato, ci ha pensato. Quindi quando ho digitato non è uscito nulla e ho capito che era un vuoto che assolutamente andava riempito e quindi ho detto se non c'è nessuno comincio io con i miei strumenti chiaramente, quindi intanto in piccolo. E quindi quello che vuole diventare questo metodo è proprio un metodo, quindi ha delle fasi che vuole aiutare soprattutto a partire dai ragazzi a ragionare sul tema della fine, fine come fine, nel senso della parola, ma anche fine come bordo, limite. Quindi le fini da non oltrepassare. Quindi non so, pensiamo anche a tutte le questioni del bullismo eccetera, cioè qual è l'orlo? Qual è quella fine che ti dicono che non devi attraversare e non devi attraversare? Invece le fini da attraversare, avere coraggio di fare qualcosa che ti porta fuori da un'abitudine e anche le fini da elaborare in modo sano. Ho considerato tanto il tema del femminicidio. Quando un uomo, un ragazzo uccide la propria compagna, ex compagna, non ha gestito quella fine in modo sano, ma non aveva gli strumenti prima. E quindi per me ci vuole un'educazione all'emozione, al pensiero per riuscire ad attraversare qualunque fine desiderata, se voglio che finisca una situazione che non mi rende confortevole, o indesiderata, se alla fine appunto come per esempio vengo lasciata o lasciato, in modo ecologico. Ecco, in questo senso sto iniziando a fare i primi passi rispetto a questo tema. Magari vi porto, partendo da quello che hai detto, alcune riflessioni. Stamattina spogliavo dei miei vecchi racconti e ogni racconto aveva una citazione prima, proprio vecchi, vecchi, 30 anni fa quasi. E una delle citazioni era di Franz Rosenzweig, che mi dice, la morte è un'inesorabile, ineliminabile qualcosa. C'è questo aspetto che secondo me è rilevante del non sapere che cos'è. ci troviamo davanti a una fine, ma senza sapere quello che ci aspetta dopo. Quindi questa paura dello sconosciuto è questa convinzione che mi lascia sempre perplessa e magari vorrei sapere dalla tua esperienza, Francesca, come ci sei trovata a parlare con le persone, che comunque la vita vada per forza preservata, anche quando il nostro corpo è pronto a passare ad altro. C'è sempre nella nostra società questa idea che la vita sia il dono e debba essere preservato, anche a costo di essere un vegetale, ma piuttosto che morire, meglio così. E questo aspetto per me è abbastanza scioccante, proprio non riuscire a vedere nessun potenziale positivo in questo passaggio che è parte della vita, in questo passo, sì, misterioso, di cui non sappiamo niente, tutta la vita di equilibrismo o acrobazie, a me fa sempre pensare a un giro di giostra, alle montagne russe. Immagino che morire sia come, immagino, langamente la narratrice, quando ti trovi in cima alla salita delle montagne russe e davanti a te c'hai questa discesa e quando parti c'è quella sensazione di spavento, va dentro è come se parte una risata, anche per me mi rilaccio a quello che dice Barbara, in questo non conoscere e lanciarsi c'è una gioia che noi non consideriamo. Assolutamente sì, una volta avevo letto una frase di Richard Pack, l'autore di El Gabbiano Jonathan Livingston, che mi è sempre rimasta impressa perché, pur non essendo, almeno in questa vita, realmente già morta fisicamente, pur se mille volte in altri ambiti, lui diceva, morire è come tuffarsi in un lago ghiacciato in una giornata di calura. C'è la scossa di quell'improvviso cambiamento, che è quasi un dolore, ma poi c'è il fatto di abituarsi a una nuova realtà e anzi goderne di quella realtà e secondo me può essere una metafora molto affine perché c'è comunque un cambio, sicuramente c'è un pizzicotto, ma poi c'è un di là e sono d'accordissimo con te sul fatto che in questo momento storico la morte è associata alla parola fallimento, il fallimento della scienza, della medicina, anche della persona stessa che non è riuscita, se si è suicidata ha maggior ragione, ma anche se non è il suicidio, anche per una morte di cancro, noi siamo abituati a dire ha combattuto il cancro, sto combattendo, cioè è l'eroe quello che combatte contro la morte, cioè la morte è contro di noi nella narrazione che abbiamo noi, invece la morte è in noi, è con noi, è parte di questo ciclo e quindi dobbiamo proprio riabituarci a un altro tipo di narrazione, ma che questa narrazione è figlia del capitalismo, quindi va a promuovere le persone come prodotti che finché siamo in vita acquistiamo e siamo cose da mungere e quindi ovviamente se moriamo, già un po' da morti riusciamo comunque a essere sempre prodotti, c'è tutto il tema delle imprese pompe funebri, tutto quell'argomento nel lì, adesso ci sono una marea di app, QR code per dialogare con l'aldilà, un sacco di anche progetti di realtà virtuale, cioè ce la stiamo facendo a diventare prodotti anche da defunti, però diciamo comunque al di là di queste cose che stanno iniziando, sono d'accordo con te, è proprio un errore nella grammatica del pensiero, definire vita come l'unica cosa possibile, poi nella nostra cultura, perché in altre culture non lo è, come diceva appunto Andrea, per esempio ho fatto un percorso una volta, una formazione di narrazione presso l'esercito italiano ed era al tempo degli attacchi ferrati dell'Isis e io quindi avevo parlato con un generale di questo argomento e lui mi diceva a livello valoriale narrativo il combattimento cioè è impari dal punto di vista che per noi la vita è il valore più alto, per loro lo è la morte, morire da roe è la cosa che ti fa andare appunto nel paradiso, quindi cioè siamo proprio completamente su pieni diversi, non è possibile neanche raggiungere un dialogo quando c'è un punto di vista così totalmente differente. Io con le persone che ho incontrato negli hospice quando ho fatto i percorsi ma anche privatamente di narrazione della propria storia, allora ho trovato un signore ottantenne incazzatissimo di morire perché se le era goduta la vita e non aveva ancora finito di godersela e quindi era proprio arrabbiato ma per l'aspetto che non aveva, cioè voleva ancora divertirsi, voleva ancora essere felice come era stato quindi era proprio arrabbiato di questo. Ho trovato un uomo che invece era pronto e mi ha raccontato la sua storia mi ha detto come una confessione questi progetti in realtà non sono per la persona che raccoglie la storia ma si raccoglie la storia per consegnarla di solito a qualcuno che la persona individua invece in quel caso quest'uomo mi aveva detto io la lascio a te è come se potessi liberarmi della mia storia e andare la tieni tu. Una mamma non voleva morire ma perché aveva la figlia di 22 anni che stava per laurearsi e allora ho notato che per esempio al di là della narrazione mainstream di cui stavamo parlando appunto legata al fatto di essere prodotti le persone si attaccano alla vita quando soprattutto a parte questo signore che voleva ancora godersela ma hanno qualcuno a cui tengono o di cui si stanno prendendo cura mentre ci sono persone che vedono i loro cari ormai nelle loro vite indipendenti insomma che sono soddisfatti e loro dicono posso morire c'è un non poter morire io per esempio in questo momento non posso morire perché c'ho il cane non ho problemi sulla morte anzi ho una curiosità pazzesca come dici tu Francesca cioè da otto volante mi sfrego le mani cioè ho paura ma mi sfrego le mani dico mamma vediamo metto il gettone subito si parte ma in questo momento dico no non posso morire perché sennò cico chi è che lo tiene e quindi ecco però la stessa cosa avevo visto avvenire in altre persone c'è qualcuno che non ha finito il suo pezzo di strada e non è abbastanza indipendente finché io possa andarmene sì magari posso portare un'esperienza personale io ho avuto esperienze dirette con la morte da ragazzina già e quello che posso raccontare è che mia madre è morta quando avevo 13 anni e lei era molto giovane aveva 36 anni ed effettivamente più che il fatto di morire perché comunque c'era una persona che si occupava di psicologia delle idee abbastanza aperte nei confronti della morte ma c'era questa questa lacerazione di chi per il fatto che lasciava me o comunque le persone che le stavano vicine ma ovviamente soprattutto la figlia adolescente pre-adolescente e e a volte probabilmente spesso è così la sofferenza di chi muore perché io dico sempre ah morire è un problema per chi rimane e non per chi se ne va però forse è un un po' superficiale quando lo dico perché in effetti in certi casi c'è questa parte io mi ricordo bene questa lacerazione tra lei che ormai era al suo momento e doveva morire ma c'era tutta una parte che la tratteneva qua allora ecco forse in quei casi si è difficile morire e forse sarebbe bello che fosse più facile che appunto intorno per chi resta ci fosse un modo per soffrire meno penso che questo tu l'hai visto sicuramente tante volte assolutamente sì per questo penso che serva proprio un'educazione a monte perché penso anche a te se a quel tempo avessi potuto avere dei percorsi a scuola dei momenti di riflessione di preparazione ma indipendentemente dalla tua situazione chiaramente contingente ma in generale come forma di educazione penso che avresti avuto e avremmo maggiori strumenti anche per far capire alla persona che sta andando che può andare che noi sopravviveremo ovviamente ma anche proprio emotivamente ma non lo sappiamo dire perché non lo sentiamo perché non siamo state preparate e preparati a proprio a provare questa cosa a immaginarcela ma tuttora anche da adulti lo vedo adesso io conduco i desk caffè e ci sono delle persone che non vengono una persona non è venuta perché il suo marito le ha detto cosa vai a fare lì a farti spaventare a parlare di morte ci penserai quando succederanno le cose è proprio quella scappare via da un'ineluttabilità che con noi quotidianamente la vediamo intorno a noi sempre la morte io dico già quando se mangi il prosciutto già hai della morte del piatto quindi non è che la morte è qualcosa che c'è dietro al muro di un cimitero la morte è nelle foglie che cadono dell'albero in ciò che stai mangiando in ogni situazione ma non abbiamo questo tipo di abitudine e quindi siamo impreparate e impreparati e dunque appunto come può essere stato per tua mamma c'è dire cavolo come fa dopo lei giustamente sì addirittura non c'era il coraggio scusa non c'era il coraggio di parlare con me del fatto che veramente le stesse morende quindi la morte diventa un tabù però è una dissonanza cognitiva perché hai di fronte la persona che sta morendo nel mio caso ma so che non è l'unico sicuramente e allo stesso tempo c'è la totale negazione di quello che succede come se si possa proteggere da qualcosa che comunque inevitabilmente succederà ed è naturale lascio Barbara che stava volevo apportare un'immagine che mi è venuta mentre parlavi e hai detto la parola lacerazione sarà che ormai sento che sono entrata un po' in questo sguardo delle cicatrici colgo diciamo le potenziali metafore o comunque mi è venuta questa immagine del fatto che è come se il nostro corpo volesse no ma dai non ti sei fatto male non sei caduto no non mandiamo le piastrine no dai cioè non mettiamo a posto no dai anche i globuli bianchi no come se cioè immaginiamo no il nostro corpo unico che vuole essere funzionale per il benessere e inizia a pensare no non parliamone facciamo finta di niente vediamo cosa succede e se proprio passi di lì vabbè dovrei fare qualcosa dovrei mettere a posto questa lacerazione questa cicatrice ma se no lasciamo stare no e proprio a livello educativo capiamo come questo ci porta veramente in un'unica dimensione di separazione no perché andiamo proprio in quel ragionamento come se tutto il resto che succede non ne fosse parte e ritorno sì è un po' per consolidare questa sensazione di negazione e forse dare un po' un'immagine che ci fa rendere conto di quanto non sia così efficace il non educarci a questo e infatti ne avevamo un po' già parlato nella volta scorsa o la prima dei ridi di passaggio no i ridi di passaggio sono un pochettino un po' anche un un abituare cioè come dire un confrontarsi attraverso proprio il non il rifiuto piuttosto anzi andiamo quasi quasi a sottolinearlo a esagerarlo proviamolo un po' mettiamolo un po' in scena cioè i bambini se non li lasciamo tranquilli loro la mettono in scena anche la morte non hanno problemi cioè e quindi di fatto succede probabilmente a un certo punto qualcosa mi viene da dire no arriviamo un po' a un punto in cui inizia a diventare più forte questo tabù io non ho questa esperienza magari non so se tu o attraverso questo lavoro hai già notato qualcosa ma sicuramente c'è un momento in cui inizia a diventare forte questo tabù come giustamente dici il tabù inizia a diventare forte quando si cresce perché come appunto giustamente dici i bambini non hanno questa menata ne parlano chiedono fanno domande perché muore il pesce rosso muore la nonna muore la mamma muore il papà e trovano questa impreparazione dell'adulto che sia insegnante che sia genitore adesso sto chiaramente parlando in generale ovviamente ci saranno genitori super aperti e insegnanti meravigliosi però in generale così tantissimi anni fa appunto scrivendo per teatro e teatro per bambini avevo scritto il testo di uno spettacolo teatrale sulla morte che si chiamava l'albero ed era uno spettacolo molto bello con questo albero in scena grandissimo che passava tutte le stagioni poi moriva ce lo vedevi proprio cadere era una roba che proprio anche gli adulti uscivano con i fazzoletti in mano perché dovevi vedere la roba lì non è una cosa sì ma il problema era delle maestre delle maestre soprattutto dicevano è uno spettacolo sulla morte non posso portare i bambini ovviamente era uno spettacolo sulla morte creato per bambini quindi il linguaggio le metafore erano al loro livello intendo dire alto perché per me sono più alti di noi quindi c'era stato come dici tu uno spartiacque per cui i bambini erano pronti venivano uscivano erano tutti contenti e anche addolorati ma presenti e gli adulti si facevano mille menate dopo si entra nel tema del in che cosa credo quindi cioè quando ti allora da bambino ne puoi parlare poi entri in un silenzio totale se non in questo crash assurdo per cui il fuori ti bombarda di morte nei videogame nei giochi nelle storie al telegiornale ma dentro casa non se ne può parlare ma poi questa cosa qua a un certo punto ti chiede di essere affrontata e spesso lì si va a cercare un modello di riferimento chi è molto fedele ha molta fede in una religione trova conforto lì trova un linguaggio lì trova racconti lì trova le descrizioni dell'aldilà sono un po' dei luoghi franchi dove io decido di credere in quello perché tendenzialmente di quello parlano tutte le religioni di quello che c'è di là e cosa dobbiamo fare noi di qua per andare di là giusto ma nel momento in cui una persona mette in discussione la sua fede rimane in una sorta di piazza vuota non ha appoggi non sa a cosa riferirsi e in questo si trova in un silenzio anche che la circonda assordante perché altre persone non hanno racconti non hanno parole e se prova a trovarli magari ha racconti e parole di fedi religiose nelle quali però non si riconosce e questo rende difficile è la ragione per cui tante volte nel fine vita poi le persone si affidano a una religione in qualche modo è come agganciarsi a un piattello del dire vabbè provo questo cioè è troppo no come dicevate l'ignoto come diceva Francesca è troppo vasto l'ignoto ho bisogno di una mappa se anche non ci ho creduto fino a ieri forse sì sento che c'è un dio serve per dire qualcuno mi aiuterà perché questo ignoto è troppo vasto soprattutto se non è stato esplorato in un tempo sereno precedente al momento della malattia piuttosto che ecco dell'essere nel fine vita posso una domanda che poi si rivolge magari anche un po' a Francesca con riguardo a questo che è molto interessante perché prima una di quelle cose che non ho sottolineato era la separazione che secondo me è molto interessante riguardo alla lacerazione e anche questa separazione e come giustamente hai detto allora tu hai cresci improvvisamente non hai qualcuno che sarebbe di esempio che comincia a riparare questa ferita perché ti aspetti che con più esperienza si chiudano attorno a te in una sorta di aiuto nel superare questa esperienza e quindi diventa molto forte questo concetto di separazione come se si è lasciato un po' con te stesso e questa unicità di fondo che abbiamo con cui arriviamo in questa terra dove il bambino proprio effettivamente appena arrivato non capisce la separazione dall'altro anche dalla madre no? adesso non vorrei entrare però seguendo mi è piaciuto molto come l'ha descritto Lacan in questa questione del del fatto che sono gli altri che cominciano poi a portarti a vedere che sei separato da loro guarda allo specchio guarda tu sei tu io sono io no? e questa separazione che è qua a un certo punto di fronte a a un non riuscire a gestire questa nuova separazione che però non sappiamo come avete già ben detto non sappiamo dove ci porta e di fatto appunto non lo so forse mi sono un po' persa però di fatto mi piacerebbe sentire un po' di più analizzata questo concetto della separazione perché penso che lì c'è qualcosa che ci può sanare ecco secondo me l'esempio che hai fatto della lacerazione delle piastrine che non vanno a riparare a chiudere è molto adatto nel senso che il non poter affrontare il il tema della morte in modo sincero e presente al momento che accade effettivamente è come se questa ferita questa racerazione questa separazione non si può non può diventare cicatricio fino a che il discorso più ampio viene in qualche modo integrato e quindi per quella che è la mia esperienza a livello di sensazioni si rimane con una ferita aperta e questa ferita aperta spessa è su un vuoto a parte mia madre ho avuto veramente molte esperienze di morte tutte dell'altro concentrate in pochi anni e ogni volta la sensazione era questa ferita che magari appena si emarginava veniva riaperta e un pezzo veniva se ne andava con la persona quindi ci sono delle delle ferite dovute alla morte di chi sta intorno alla separazione all'allontanamento in un posto irraggiungibile che come se questo questo approccio nella nostra società qua occidentale alla morte non viene mai dato modo di guarire completamente che questo tessuto cicatrice che qualcosa riempie i vuoti al massimo un vuoto forse si incista viene lì ma poi non non ci è dato il modo di riempire il vuoto che la morte lascia con qualcosa che che non sia il dolore e quindi sì forse questo è allora io quando conduco percorsi anche formativi su questo tema porto sempre l'esempio della matrioska che riguarda diversi aspetti di quello che state dicendo uno l'aspetto del fatto che il dolore dentro di noi si depositi in un luogo e rimane lì ognuno di noi ha dentro un campo santo con dentro varie crocette che parlano di morti appunto fisiche ma anche altre forme di morte più metaforiche e ogni volta che accade una nuova morte torniamo lì e lì li ritroviamo tutti gli altri quindi non è qualcosa che si allena cioè non ci si allena al dolore non è che se ho vissuto un lutto ne capita un altro sono più allenata no ritorno anzi aggiungo anche quello di prima quindi si stratifica anche se un altro aspetto è che ognuno di noi vive il dolore il lutto in modo diverso ma non soltanto individualmente in modo diverso anche nella propria storia ci sono persone che possono accompagnare serenamente il feretro della madre o del padre o anche del figlio che è morto per una lunga malattia e per cui alla fine erano arrivate a dirsi basta anche loro quindi possono accompagnare e essere devastate per la morte del gatto quindi già io consiglio sempre di autorizzarsi a qualunque forma di dolore non c'è il dolore giusto devi strapparti i capelli per questo invece se vuoi il criceto devi tirar più dritto se ti capita di star male per il criceto quello è il tuo dolore quindi è importante questo aspetto ricordando che tornerai sempre in un luogo che ti ricorderà gli altri dolori quindi al primo momento sarà ancora più forte la sensazione però perché porto l'esempio della matrioska immaginati che appunto il luogo del dolore è la matrioska quella più piccola quella interna interna la cosa che secondo me dobbiamo ricordarci è che non avviene separazione noi non dobbiamo pensare che elaborando un lutto ci allontaniamo da qualcuno perché spesso capita il senso di colpa a questo punto la prima volta che scoppia a ridere dopo che è morta una persona cara c'è un momento in cui ti accorgi e ti congeli ti sembra di tradire quasi quel lutto come ho fatto ad andare avanti non sono più lì è una sensazione veramente di separazione come di abbandonare questa persona o animale o creatura cara invece io consiglio sempre di immaginare proprio matrioska cioè noi cresciamo intorno al dolore quello che l'elaborazione di un lutto sano fa avvenire è che noi diventiamo più spazio cioè allarghiamo il nostro pazzo interiore quindi non c'è un processo di andare via da un punto a un altro dove rimane alle spalle qualcuno di caro ma questo qualcuno di caro resta dentro di noi semplicemente noi ci allarghiamo intorno con una vastità interiore che può sempre più includere altri dolori e in questo senso può includere anche altri amori altra gioia perché poi non è un luogo che rimane solo buio e tetro e quindi ecco la separazione può non avvenire se ti immagini che tu includi e integri ciò che non c'è più dentro di te quindi viene via con te cresce con te ma una cosa che aggiungo che raramente le persone pensano in realtà è uno degli elementi che rende i lutti quelli a lungo termine più forti cioè poco elaborabili è che un aspetto del lutto fortissimo è l'imparare a piangere la parte di noi che non c'è più grazie al fatto che una creatura amata non c'è più cioè se muore mia mamma muoio io figlia e la morte di me figlia è spesso se non elaborata se non riconosciuta se non deposta se non onorata è spessissimo l'elemento che rimane molto più vivo nel dolore rispetto a quello di una madre di un padre eccetera se muore mio marito muoio io come moglie io devo sepollire anche me cioè bisogna proprio fare un rito di sepoltura reale nel senso reale vado in un bosco seppellisco un foglietto che ho scritto qui muore Francesca moglie cioè è importantissimo perché molto spesso i lutti che si incancreniscono riguardano noi noi che siamo rimasti qua perché quella parte lì per sempre non ci sarà più ed è questa parte qua che ci manca tantissimo quel noi che non viene più nominato da quella persona chiamato con la voce di quella persona abbracciato da quella persona ma se non ci rendiamo conto continuiamo a vagare in queste tenebre con un dolore che non trova conforto invece a un certo punto se riusciamo a seppellire noi avremo chiuso il cerchio e avremo fatto spazio matriosca e saremo la matriosca più esterna grazie molto interessante forte mi sono venute in mente tantissime cose quello che si sta dicendo in particolare da un lato l'impressione che il sistema impatti la fine la morte in diversi modi da un lato il sistema capitalistico che tu hai citato prima da un lato non c'è diritto a morire non c'è diritto al fallimento a partire dall'invecchiamento invecchiare non è possibile è la strada che ci conduce alla morte e non è accettabile morire quindi mi sembra che il nostro sistema ci dica un pochino questo morire e fallire non è possibile e poi un'altra cosa quella legata al rituale che è stato spesso citato ne avevamo già parlato l'umano ha questa capacità creativa ha avuto questa capacità creativa di creare il rituale che è una sorta di educazione accompagnamento sociale alla morte con le sue fasi quindi separare poi c'è una fase di sospensione in cui teoricamente si medita e si riflette attraverso che ne sono nella nostra cultura ad esempio la veglia è un momento di sospensione in cui si riflette su questo poi c'è il momento di reintegrazione che tu hai proprio citato proprio perché la morte in un certo modo destruttura il sociale i ruoli vengono completamente ribaltati e si ha la necessità di questo momento di separazione sospensione reintegrazione nel vivo o nel mondo dei morti per poterlo comprendere per poter comprendere la morte e la vita ho la sensazione che i nostri rituali si sono un po' svuotati di significato quando muore qualcuno un caro pensiamo ah devo chiamare le pompe funebri devo spendere dei soldi e il rituale è completamente svuotato del suo significato perché pensiamo a questa bara che entra nella terra ma abbiamo completamente perso il significato di che cosa vuol dire andare nella terra con il proprio corpo di morte o di vita e quindi mi viene da dire si ha la necessità di dare dei nuovi significati o di ricollegarci a dei significati attraverso dei rituali creativi come ad esempio questi percorsi di educazione alla fine o attraverso l'arte perché appunto i nostri rituali si sono svuotati di significato è un po' una riflessione domanda che mi faccio ecco e che vi vi metto lì non so se Francesca avevi qualcosa a dire faccio giusto un appunto perché è molto tutto molto interessante e infatti andavo un po' a sottolineare quello che ha detto Francesca Marchegiano quella cosa che riguarda noi stessi e il lavoro sono i stessi che è molto importante quasi quasi spaventa tanto quanto la morte per assurdo ma perché di fatto siamo tutti in continue relazioni ne abbiamo parlato anche l'altra volta con la metafora delle storie siamo come dei personaggi nelle storie degli altri e poi e ti affezioni un po' questo personaggio quindi un po' questa educazione anche a questo vuoto a questa sospensione di cui parlavi restare anche un pochettino nel vuoto di avere il coraggio di lasciare andare una parte ma anche sapere che puoi decidere di te cosa ricostruire perché comunque puoi tenere questo questo personaggio un pochettino se vuoi però appunto ci si immagina come quando facevi l'esempio del cane se prendi un altro cane ritrovo questo no è un po' come dire è un po' se venisse a mancare quello che ha detto Andrea il significato e lo stare un po' anche in questa sospensione perché è proprio già una come dire sarà un altro cane no sarà un'altra relazione sarà un'altra persona quindi questo questo vuoto è molto prezioso è molto importante onorare quello che è cioè quello che è non altro cioè questa persona questa mia relazione questa mia parte di me e forse adesso mi verrebbe da dire riuscire a portarla lì in quello spazio del dolore se vuole stare in questo campo santo vicino al crocette perché porta quella gioia e quella non separazione che spesso tutto questo no il dolore no però la gioia sì ok però sono va bene ma sono anche emozioni vero che non è buono coltivare il dolore perché se no ci ci stanchiamo ma è anche vero che abbiamo veramente una regola che ci dice dobbiamo assolutamente non ridere essere composti essere molto 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 addolorati se non quest'imitazione che continuiamo a fare e quindi molto bello poterne parlare e poter ritrovare i propri rituali le proprie educazioni alla morte e insomma mettere un po' in dubbio status quo sono d'accordo sul fatto che comunque questo tempo no appunto tra la lacerazione e la cura quindi no nella cicatrice la lacerazione poi si forma la cicatrice ma questo tempo in mezzo non è un tempo vuoto perso appunto che la società ci spinge a stringere il più possibile ma è un tempo comunque fertile florido in questo tempo vuoto questa sospensione dove tutto non è più vero e i ritmi sono sballati e noi siamo gli unici e le uniche in un mondo che fuori è fiorito rumoroso con persone che ridono e noi ci stiamo portando dentro un peso incredibile quindi c'è proprio uno scollamento con quello che avviene fuori ma il dolore si dice il buio lo si conosce al buio perché nel momento in cui tu illumini il buio stai conoscendo la luce e il buio è abitato da creature buie che hanno ali buie che hanno antennine buie cioè lì danzano e devi stare dentro lì quindi concedersi il tempo del buio è apprendere anche di noi stessi e noi stessi qualcosa di importantissimo perché il buio ci rende tridimensionali ed è di nuovo figlio di questa narrazione mainstream il fatto che essere addolorati sia malati ed essere felici sia sani cioè noi proprio distinguiamo queste due cose se una persona la vediamo felice o vediamo un'immagine di una persona felice cioè in automatico pensiamo che sia sana se la vediamo addolorata o che piange o triste in automatico pensiamo che sia in qualche modo malata e va curata invece una persona è sana se sta attraversando un dolore legittimo di qualcosa che ha perso che non ha più se sta attraversando questo tempo di buio siamo sane e sani anche nel dolore in questo ritorno a quello che diceva Andrea comunque sicuramente dobbiamo trovare altre modalità ispirarci rispetto ad altre culture è ovvio che è difficile che se muore mio papà io faccia un funerale non so alla San Bodrumo di Rio coi coriandoli per me a volte morire è proprio anche dire vincere la lotteria cioè dico no che figata andato a vedere cosa c'è di là quindi a me sembra una cosa bella però se lo facessi insomma nella cultura in cui io sono nella comunità in cui io sono sarei tacciata per pazza quindi intanto rispetto al rito che vorremmo fare secondo me ciascuno di noi deve occuparsi del proprio intanto e lì entriamo nel tema proprio dell'organizzazione della propria fine che può avvenire domani mattina perché si dice il 99% delle persone che moriranno oggi non sapevano di morire oggi noi saremo parte di questo percentuale magari fra un secondo e se non ci prepariamo a questa eventualità quindi non creiamo la nostra death box che quindi è la scatola con dentro le nostre volontà che musica voglio che ci sia a che tipo di celebrazione chi deve venire chi deve venire chi no ma anche qual è la password per il conto in banca qual è la password per il mutuo dove sono le chiavi di scorta della macchina cioè cose pratiche e cose più diciamo spirituali e rituali se non le decidiamo noi lasceremo le persone in questa magari morte improvvisa che ci può capitare ad aprire una porta di una casa di qualcuno e non sapere dove mettere nelle proprie mani nel proprio cuore nella propria anima nel proprio dolore e quindi in questo senso ognuno di noi può decidere per sé e lo deve assolutamente fare ci sono una marea di risorse anche online ci sono le disposizioni anticipate di trattamento da compilare insomma ci sono anche tantissimi moduli che si trovano ci si può fare aiutare per prenderci cura e partiamo un po' dall'inizio di coloro che restano non solo della nostra morte perché sennò chi resta entra in un casino che oltre al suo lutto deve sbrogliare ed è qualcosa che aggiunge fatica al dolore sì mi sono molto d'accordo con quello che stai dicendo e per caso è proprio una cosa di cui mi sto occupando in questo tempo quindi fantastico e quello che volevo portare che mi rilascia molto allo stesso dei rituali è che c'è anche una dimensione condivisa del dolore o magari non c'è sempre però quello che ho avuto modo di sperimentare io a livello familiare una famiglia numerosa che appunto si è trovata più volte confrontata con queste dinamiche del che è successo e adesso bisogna pensare a tutto chiamarle con qualcuno per fare l'annuncio sul giornale però in mezzo a tutte queste cose che possono anche sembrare superpi anche se va comunicato va concretizzato il corpo va sepolto ma in questo tempo sospeso condiviso della famiglia questo vuoto che ognuno portava dentro succedevano comunque dei movimenti particolari c'era molta energia c'era una condivisione che nei giorni normali non c'era i giorni rimangono nella memoria sono comunque giorni speciali tra chi rimane ci sono degli scampi che non sono quelli quotidiani e a volte la prima risata fa sentire in colpa assolutamente sì ma magari quella che succede dopo molto tempo invece in quei giorni così dove c'è come proprio un'alterazione dello stato di coscienza ricordo i momenti in cui si rideva in modo sguaiato in cui ci si faceva dei panini giganteschi pieni di tutto quello che si trovava nel frigorifero cosa che non sarebbe mai venuta in mente a fare in un giorno normale e vi ricordo comunque come dei momenti molto preziosi come delle condivisioni che sono state possibili solo lì in quel tempo sospeso e questo secondo me è uno dei magari uno dei più piccoli doni che la morte può portare non a livello individuale ma più familiare o di gruppo o magari uno riesce a darseli anche da solo è una delle cose speciali che vengono con la morte è proprio questo gusto diverso per la vita fino a che la morte è lì così concreta e presente e bisogna occuparsene come se sotto c'è comunque la vita come l'erbetta che spacca il cemento e però appunto onoriamo la morte magari in quel momento ma questa erbetta che spacca il cemento non si riesce di perlì onorarla però almeno dopo vederla ricordarla secondo me è una cosa preziosa mi verrebbe da dire che ogni tanto si pensa la morte è di chi la vive individuale o la morte è di chi rimane ma in realtà la morte è un tutt'uno in realtà non è separabile non saprei bene come esprimere a parole questa sensazione che ho della morte come una cosa che unisce e che non separa l'individuo dal gruppo il gruppo dall'individuo si muore un po' tutti e si rinasce anche in un qualche modo in un modo diverso non sappiamo bene come rinasce l'individuo questo è un grande punto di domanda nel momento che muore come un ricordo probabilmente perché comunque rimane non saprei come rispondere a questa domanda sarei curiosa di sapere come vi rispondete voi io penso allora siccome la morte non è il contrario della vita ma il contrario della nascita ciò che accadde quando avviene una nascita è la stessa cosa della morte quando nasce un bambino c'è un big bang ma anche familiare cioè si rompono degli equilibri si rompono delle consuetudini si mangiano i panini giganteschi perché si festeggio perché la mamma è affamata c'è un tempo di elaborazione di questa nascita e di in qualche modo far decantare tutto questo big bang che è quasi lungo come il lutto diciamo un tempo sano in entrambi i casi è un giro intorno al sole quindi un anno quindi non c'è differenza tra le due cose c'è un sistema che si allarga per contenere la nuova vita nel corpo per contenere come dicevi tu Andrea un ricordo le memorie uno spirito un'anima nell'aldilà o dove le persone pensano che sia andata non c'è alcuna differenza secondo me quindi io non ecco trovo che per imparare a guardare a come vivere la morte vivere la morte possiamo imparare a come viviamo la vita la nascita cioè addobbiamo per esempio una stanza perché non stiamo addobbando la nostra stanza per l'ultimo saluto perché non consideriamo per esempio che c'è un addio già in corso è interessante pensare che non è una cosa che avverrà sta già avvenendo io sto già morendo anche il mio cane sta già morendo il mio matrimonio sta già finendo il mio lavoro sta già finendo cioè è tutto già in essere e nel momento in cui abbiamo questa consapevolezza in realtà io ritrovo proprio una felicità di quello che c'è nelle piccole cose proprio io trovo una celebrazione poi dove ogni cosa diventa rituale se ti bevi il caffè se fosse il tuo ultimo caffè ma pure il primo cavolo staresti veramente lì non devi far vent'anni di mindfulness di corsi cioè basta che ci pensi una volta ed hai già raggiunto il livello pro di questo tema è che devi portarti lì col pensiero e non scivolare via come siamo abituati abituati e non solo abituati ma anche spinti incessantemente a fare se posso mi riallaccio perché quello che hai detto è una cosa che sento tantissimo anch'io e sono proprio i due momenti in cui noi siamo più vicini al mistero cioè se vogliamo sono i due grandi misteri più che abbiamo no? cioè poi tutto il resto in qualche modo l'abbiamo conosciuto sempre di più sicuramente c'è un ampio margine per conoscere ancora ma diciamo che in linea di massima ci siamo un po' accomodati sul fatto va bene dai più o meno conosciamo tante cose però sulla nascita e sulla morte niente sei boh niente di nuovo sei lì di fronte a quel mistero cioè e lì tutte le infrastrutture cadono perché veramente sei costretto a non avere nient'altro si potrebbe forse dire anche un po' di coraggio fiducia sì possiamo chiamarle in tanti modi può anche essere terrorizzato fondamentalmente poi è uguale però è proprio così cioè lo metti in dubbio no? non possiamo metterlo in dubbio no? tutti i nostri altri pensieri le nostre altre emozioni le altre cose sì però quell'esperienza no quindi doni grandissimi sì non c'è una risposta c'è solo una constatazione da fare non saprei e dato il fatto che è un'esperienza e comunque c'è forse una cosa che mi piace forse portare lì e ricordare comunque la libertà la libertà anche di viverlo come vogliamo ecco che è libero cioè che veramente ci ricordiamo che possiamo vivere queste esperienze con l'emozione che vogliamo e possiamo anche immaginarci e non possiamo avere una conoscenza questa storia come vogliamo questo è una grande libertà che spesso non ci concediamo ecco c'è questa meditazione buddista che ha un po' lo stesso significato del momento mori del maranasati appunto la pratica di ripetersi ogni giorno semplicemente la morte c'è e può andare avanti e occuparsi della propria vita però di tenerla presente come parte della vita e è una piccola una piccola cosa ma non so cominciare a appunto portarsela a tenerla a braccetto perché tanto viaggia con noi appunto abbiamo iniziato a morire quando siamo nati e questo essere sempre in lotta con qualcosa che fondamentalmente siamo mi sembra molto faticoso anche si potrebbe non mai vivere tutto questo in modo più riposante non so se è il modo giusto di dirlo ma a proposito dell'imparare a morire sono recentemente andate a sentire un noto psicanalista che penso fosse Lacaniano e diceva spesso l'incapacità di lasciare andare e accettare il no il rifiuto la cosa che non fluisce non funziona genera violenza violenza in tantissime sfaccettature in particolare in quel modo si parlava di relazioni che finiscono quindi una morte un lutto che si rifiuta e che spesso genera una violenza verso l'altro e anche verso se stesse in un certo modo forse parlando di tante fini ecco mi ricollego di quello che avevi detto all'inizio che la morte non è solamente quella fisica ma sono tante piccole morti imparare a morire significa anche imparare a lasciare andare accettare il rifiuto accettare il no questo si come dire si ricollega tantissimi a tantissimi ambiti della vita era una cosa che mi aveva particolarmente colpito io infatti penso che nel momento in cui noi impariamo a lasciare andare impariamo non solo a morire ma impariamo ad amare perché amare non è trattenere ma lasciare andare la forma più alta d'amore è lasciare essere e lasciare andare e un allenamento che possiamo fare lo facciamo in realtà senza accorgerci tutte le sere quando andiamo a letto questo lasciare andare tutte le cose a cui teniamo di più i nostri progetti i nostri cari il cane il gatto il marito i figli il lavoro le nostre identificazioni a un certo punto chiudiamo gli occhi e molliamo tutto con grande serenità col sonno intendo dire questo è un allenamento alla morte cioè il fatto che a un certo punto ti sganci e tutto ciò che per te è più importante al mondo lo lasci andare e noi questa cosa la facciamo tutte le sere solo che se non te ne accorgi ne lo fai con consapevolezza ti passa via invece addormentarsi è uno degli allenamenti più semplici efficaci di morte non solo la nostra ma anche quella degli altri a un certo punto tutto resta indietro che mi fai venire in mente quanto questo fosse molto più forte quando ero piccola e non so se era una cosa solo personale o forse perché comunque crescendo con mia nonna questa per loro era questa idea di affidarsi a Dio prima di andare a letto era molto molto forte cioè la preghierina anche fossero tre parole la dovevi dire perché non sapevi cosa succedeva poi è vero magari loro sono cresciute durante la guerra quindi hanno anche avuto questa non sai c'era anche questo spettro un po' più grande che era più concreto noi l'abbiamo un po' allontanato però come dici tu come dicevi Francesca prima 99% delle volte comunque non lo sai quando sarà il tuo momento quindi mi ha fatto ricordare questa presenza e appunto per rifare ribadire un po' tutto il discorso che abbiamo fatto io sentendo questa presenza avendo questo ricordo riporto questa persona vicino a me e questa sensazione e e sono ancora per un attimo questa bambina che a cui la nonna diceva diciamo la preghierina e quindi per un attimo c'è ancora quella mia parte anche se più bisogno adesso non c'è più la mia nonna però proprio adesso ne ho fatto l'esperienza allora ve lo condivido un po' a sottolineare come appunto c'è non c'è c'è e non c'è incredibile perché la nostra cultura che non possiamo far finta che non sia così impregnata di cattolicesimo in cui appunto si parla tanto teoricamente sulla carta della gioia della morte perché non solamente l'anima risorge ma anche il corpo risorge ed è una gioia teoricamente sulla carta dovrebbe essere una gioia perché ci si riunisce con la divinità con il divino c'è una sorta di premio incredibile è una cosa che mi ha sempre sorpreso come questa lettura non venga fatta nonostante noi ci possiamo anche in realtà distaccare dalle scritture nel senso però non possiamo negare di essere impregnati di questa cultura di questo cattolice eppure sotto questo aspetto legato alla morte c'è una paura che io non riesco a ricollegare con questo nostro sottotesto che è presente teoricamente non dovremmo essere una società che ha paura della morte teoricamente è verissimo ma chiaramente la paura essendo una forma di controllo viene in qualche modo trasmessa proprio per questo far provare paura in questo senso cioè se io riesco a farvi provare paura rispetto a qualcosa ho potere che mi dicessi bellissimo è morto olè festa è molto meno controllabile poi la comunità a cui mi rivolgo io dico sempre che sono troppo spirituale per essere religiosa quindi perché è così nel senso io coltivo costantemente la mia spiritualità ma non posso non ci sto in nessun bicchiere che abbia fuori un'etichetta con qualunque forma di religione ma anche di filosofia orientale se vogliamo cioè ho bisogno di una goccia di tutto per ispirarmi per comprendere per approfondire ma ecco in questa cosa non mi ritrovo e quindi ovviamente poi è più difficile anche è stato più difficile trovare poi il mio dialogo con la morte perché non attingendo un toto a questi argomenti è stato più difficile però adesso quando vado ai funerali penso di essere la persona più attenta della chiesa a quello che viene detto sono infissa su ogni singola parola perché non entro in quella cantilena che vedo fare le persone accanto a me che cregano e sono credenti per cui non hanno il cervello suon ma si entra nella ritualità nel ritmo nella cadenza io invece seguo parola per parola quello che viene detto poi lavorando anche sulla narrazione e dico ma no ogni tanto mi guardo intorno e dico no ma non ci credo non ci credo che qualcuno sta dicendo questa cosa da un pulpito voi pure la ripetete perché appunto come dici tu Andrea a volte si vive l'antitesi di quello che si dice si proclama qualcosa però al contempo si trasmette un senso opprimente e trovo proprio allora lì risalgo a quanto le religioni poi in realtà siano servite necessarie benefiche per non ammassarci tutti arrivare più o meno fino a qua sani e salvi ma come forma di controllo sociale e quindi in questo senso ritroviamo tantissimi livelli di questi aspetti che tutto sono fuorché la spiritualità o il senso di trascendenza che abbiamo tutti noi e poi quello che hai detto è esattamente quello che sta succedendo cioè quello che è stato varcato dopo la religione quando su quello si era lavorato si è arrivato al controllo anche sulla morte attraverso la scienza perché sulla nascita e sulla morte che poi questo potrebbe essere temone perché anche a me tocca tantissimo riprendere il nostro controllo di questa piccola sfera della vita coraggiosamente con il nostro consenso e la nostra presenza mettendoci proprio in gioco penso che sia un gran valore poi probabilmente o ognuno sfocerà in un rituale suo o magari troveremo altre strutture condivise e anche lì è un'altra morte a cui ci stiamo educando anche con questi dialoghi direi infatti ringrazio sempre chi prende veramente la palla al balzo perché non è evidente entrare in una cosa così destrutturata come noi dove noi ci lanciamo invece proprio un po' questo anche è il senso quello che ce lo conosciamo magari c'è tanto altro che possiamo o conoscere o creare assieme mi dico un'altra frase che ho letto sono di racconti stamattina questa è di Joao o Joao Ghiomares Rosa le persone non muoiono restano incantate questa frase mi ha accompagnata per tantissimo tempo e mi piace tantissimo come immagine l'avevo dimenticata l'ho ritrovata oggi penso che sì c'è una dimensione dove indipendentemente quel viaggio che poi l'anima il corpo faranno dopo la morte ma c'è una dimensione dove le persone o la loro la loro impressione rimane incantata e quindi ecco lì non c'è più la separazione rimangono abitare dentro o intorno mi tornano in mente le parole che abbiamo usato la scorsa volta di questi discorsi che cadono per terra di queste storie costruite che cadono per terra in un certo senso questi dialoghi questi incontri ci servono termini funzionalisti però ci sono utili per creare nuovi discorsi per mettere insieme nuovi discorsi e avere delle prospettive nuove su dei fatti che ci sembrano dati e non più discutibili come la morte che non è più discutibile interessante questa affermazione perché la morte non è più discutibile chissà se si può arrivare a discuterne ancora oltre a come stiamo facendo noi ma non lo so c'è qualcosa in questa affermazione su cui devo riflettere un po' ci siamo l'abbiamo un po' toccata parlando di frequenze adesso questa è una tema ormai di pubblico dominio quasi o almeno poi è vero che il pubblico dominio è un po' relativo ultimamente per cui io sono molto circondata da questo tipo di pubblico dominio che poi magari è una cerchia tipo 0,1% però non so quantificare ma dove possiamo proprio parlare di frequenze e di prospettive cioè quando per rifarsi alla nascita secondo alcuni studi sembra che il bambino all'inizio vede fin qua come se la realtà che si costruisse attorno a lui fosse molto vicina e poi man mano si allarga in una costruzione comune e ovviamente questa prospettiva apre molto mette tutto molto in discussione anche la morte perché alla fine potrebbe essere come quando qualcuno parte per un viaggio o se qualcuno esce dal campo di percezione sì vabbè però lì abbiamo già meno veramente lì un campo tutto nuovo dove possiamo addentrarci con una grande immaginazione con tante fantasie però io non lo non lo escludo ogni tanto ci filosofeggio sopra poi vedremo 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 la cosa meravigliosa un giorno vedremo sentiremo sentiremo faremo questo viaggio assaggeremo assaggeremo sì verrà ma appunto essendo non so è una di quelle cose che intorno ti prendono sempre per pazza ma wow questo come dicevi prima Francesca che che voglia da una parte di scoprire questo questo mistero magari l'abbiamo già fatto se non lo ricordiamo io non so anch'io non sono religiosa non vi riconduco niente ma ma il mistero sì è tangibile è fantastico un giorno sarà anche nostro c'è qualcosa che volete aggiungere a cui tenete particolarmente come riflessione su questa tematica che da morte è diventata accompagnamento ed educazione alla morte o come si può parlare di morte in modo alternativo c'è tempo per riflettere prendiamoci il tempo ma io io su questa bella parola di mistero mi mi adagio per la morte a volte poi le parole finiscono si può condividere un silenzio e le dice sono d'accordo restare nel silenzio e in quel buio che si conosce solo stando al buio perché io penso che per esempio io penso che Dio dico Dio ecco prendetelo con tutte le reclinazioni sia tutto ciò che non ha mai avuto parola e quindi dentro lì trovo anche tutto quello che sento spirituale associato al mistero di cui parla Barbara perché nel momento in cui si nomina già lo stiamo portando in una dimensione che è della forma e non della non forma e quindi già in qualche modo è cambiato non ha più il suo senso profondo beh io vi ringrazierei per aver condiviso esperienze prospettive per aiutarci appunto a guardare le cose in modo diverso e mi avvierei ci avvierei verso la conclusione di questo dialogo nella speranza anche di poter parlare condividere anche su altre tematiche nel prossimo futuro grazie a voi per l'invito e questa chiacchierata grazie grazie a tutte è sempre bello condividere questo spazio salutiamo anche di coloro che ci ascoltano dopo guardando la registrazione magari invito come si suol fare dobbiamo imparare anche noi a fare a condividere e anche a condividerci i loro pensieri no? così che si possa continuare a dialogare anche indifferita anche rispondendo insomma ai commenti nei prossimi video grazie grazie ciao grazie mille ciao grazie a tutti